Buongiorno a tutti, ci troviamo presso l'Associazione Culturale Voguerai e oggi siamo in compagnia di Patrizia Branca Leone, una maga del vetro e dei giochi di luce che possono essere ottenuti attraverso la lavorazione del vetro che presto esporrà proprio presso Voguerai, è corretto? Corretto, è per la seconda volta che vengo. Questo sotto il Natale ho fatto un po' di strenne anche più natalizie, con presepi e mosaico, con degli angioletti in legno antico, ma proprio di 150 anni con fatica di modellarlo eccetera, con inserti sempre in vetrofusione, pannelli, vassoi e interpretazioni varie su quello che potrebbe essere il Natale anche in sculture non ben identificate insomma con il Natale. Quindi il tema natalizio, l'atmosfera natalizia sarà ben presente? C'è, è presente sì. Come nasce la passione per il vetro, per questa arte? Per il vetro sono stata a Milano più di 30 anni fa a fare un corso presso la Laura Morandotti che lavoro ancora adesso, sta restaurando quelle del Duomo di Milano e da lì mi voleva tenere a bottega, ma avevo altri interessi, lavoravo qui in zona in altre cose, ero molto contenta e l'ho fatto per 10 anni, la notte, il sabato pomeriggio, man mano ho fatto vetrate molto belle che sono ancora qui a Voghera, in siti che non nomino per la privacy, però molto particolari. Ho fatto 30 anni di laboratorio, ben felice di averlo fatto, però non sono più tempi, ho un po' di nostalgia perché non vieni più vista, adesso c'è tutto sull'atec, poi i giovani non lavorando non possono interessarsi a cose che non hanno i soldi, sono un po' triste, mi piacerebbe poterlo trasmettere, ma nessuno sente. Sembra quasi che quest'arte non abbia futuro. Infatti, per adesso non ce l'ha, però volevo fare un grande laboratorio, nel senso se intervenissero le diverse parti sociali, utilizzando un pezzo di caserma, così avevo fatto dei miei progetti, ero andata dappertutto, per far vedere ai giovani che comunque queste cose ci sono, perché i nostri ragazzi quando vanno all'estero o a REM, sono da qualsiasi parte in Europa, gli fanno fare dei piccoli approcci con i laboratori di artigianato artistico e tornano a casa tutti entusiasti. Noi gliel'abbiamo trasmessa queste cose, ce le abbiamo, se non le vedi non le saprai mai fare, però non lo so, per adesso non li vedono, non ce ne sono a quale interesse. Beh, insomma, invece sicuramente Voghera saprà apprezzare queste opere, saprà apprezzare questa arte, lo potrà fare presso Voghera, e vogliamo annunciare le date ufficiali. Da giovedì 6 al pomeriggio l'inaugurazione è l'8, e ci sono sino a venerdì 15, tutti i pomeriggi, dalle 4 alle 7. Presso l'Associazione Voghera, via Felice Cavallotti, numero 16.